Intanto 546-5 e Polobel Tigra, andiamo a vedere subito chi sarà il comando per tutti gli altri. Comando con la Peugeot 106, seguito da altri piloti, subito anche gli altri. Eppe con il 580, Schwarz con il 580, Stegmaier con il 589, Dold con il 583 e Dold con il 526. Ora supera il comando ma non l'è stabilito in questa prova. Vedete, il suo eseguimento dovrebbe essere proprio il pilota che era partito in proposizione esattamente. Urba, che lo insegue da presto, anzi cerca proprio di puntarlo per tentare il sorpasso e ci riesce. Ottima la staccata del pilota della Peugeot. Tempi alti rispetto alle precedenti vetture. Siamo oltre al pilota per il 580, c'è chi ha fatto anche un minuto e trenta, come me, ma quindi tempi alti per queste vetture. Il pilota che si è girato, sicuramente ha perso tanto tempo. Adesso vedremo questo giro lanciato che crono uscirà ad ottenere. Eccoli qua, andiamo subito a vedere. Il 580, il 580, il 580. Precidente. Sono vetture che dovrebbero non avere una grandissima cilindrata, credo. queste del colpo, ci del capo, la copertura, la copertura, la copertura, le carose e le macchine, le pisi, appassano fortemente. E si rimane qua sui 55 secondi di media giro, anche se in curvata ha fatto una 53228 nel precedente giro. quindi, scusatevi vedere il suo tempo adesso, quindi parlaggio 124, 174, 174, 174, un piccolo di qua, l'acqua, non è vera in seguire, 2 ed 3 secondi, poi, e poi, queste le prime di 7 posizioni, eccoli che adesso stanno bruciando un tornantino intero le sanzioni abbiamo visto qualche bandiera bianca e nera spettolata davanti ai piloti questo avanti e anche i punti per il 5351 per il 587 53524 per il 566 poi oppe 153459 in quarta posizione ma mai staccato di più di 5 secondi dal che è in testa a questa gara un tocco curvat con la sua vettura ora pronta a tagliare questa gara vediamo e il 716 quindi non è detto che in questi ultimi due giri ci sia un recupero da parte di su terra con la vettura 587 su terra anche nella vettura 566 questi due piloti sicuramente vanno allo stesso quindi intanto si sta avvicinando sempre di più il primo su terra 588 il secondo è 7 questo è poi il 215 prima del trottante che sta avvicinando ora chi è in testa vediamo il raccoglio c'è una vettura dritta all'aria all'esterno però esterna non dà problemi ai concorrenti che passano senza indugi con la vettura con la sua vettura la 517 ed ecco la tagliare per la primo e aggiudicarsi la categoria la classe G G